Ciao a tutti ragazzi da King Farmer siamo qua nella 34esima puntata della serie sulla Pleasant Valley e oggi andremo a dare da mangiare agli animali ci prenderemo cura degli animali io mi trovo qua nella fattoria dove c'è gli animali come potete vedere mi sono già organizzato come potete notare ci manca un pochettino di acqua un pochettino di erba e un pochettino di cibo energetico poi andremo a dare un po di acqua alle pecore e poi inizieremo a comprare un pochettino di suini e cominceremo a dargli da mangiare ok cominciamo a dargli un pochettino di acqua che qua sarà quasi finito di caricare ok dai che ce la puoi fare ok sta aumentando ok l'acqua è a posto mettiamo qua il camion qua ci richiamo dal trattore dal new oland va mettiamo gli add allora allora noi abbiamo bisogno di erba ok mettiamo gli addi un po' di erba ok è posto così il nostro lady union sta facendo il suo lavoro ok anzi no l'erba la scarico qua che scarichiamo un po' di erba come avevo già previsto che non ce ne voleva tanta però per sicurezza ovviamente se notate che i soldi scendono è perché ho messo l'operaio a concimare il campo di erba qua la mettiamo qua ok prendiamo un po' di cibo energetico cibo energetico che non ce n'è ma ce l'abbiamo qua nel silos ok frena l'azione mista facciamo un 6000 l'azione Questa è un sacco di ok abbastanza controlliamo e ce ne va ancora un po' ma va bene così dai ok dai ragazzi faccio un attimo una piccola pausa e ci vediamo direttamente dalle pecore a dopo ragazzi eccoci qua ritornati ragazzi siamo qua dalle pecore gli diamo un pochettino da mangiare aspettate che passa questo giugno levi ok allora di erba siamo a posto ok ragazzi gli stiamo dando un pochettino di acqua che mancava controlliamo ok a posto faccio un piccolo stacco e ci vediamo direttamente dai maiali a dopo ok ragazzi eccoci qua ho comprato direttamente qua 60 maiali cominciamo a dargli da mangiare ok io qua avevo un po' di di mangiare qua qua nel silo ok accendiamo gli diamo prima da mangiare ok 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 guardate il plane del mangime com'è ok, frena allora per quanto riguarda il mangiare siamo a posto adesso questo lo scarichiamo nel silo se prendiamo un po' di paglia così possono già cominciare a fare il concime solido ok prendiamo un po' di paglia ok, a posto ovviamente lì c'è la fabbrica che produce cibo per animali per i maiali e lo caricherò dietro le quinte vedete qua ci vanno le solite cose poi vi farò vedere cominciamo a dargli la paglia ok mi sembra un po' strano appena così ma scusate eh appena 1916 sembra un po' strano comunque vabbè lasciamolo qua poi lo sposterò io acceleriamo un pochettino qua ovviamente metterò anche la il l'eli 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 junio ho preso una medaglia d'oro ok scarichiamo ok ok abbiamo fatto allora vi faccio vedere prima di chiudere la puntata vedete qua qua si mette patate e mais allora patate e mais frumento e orzo è il macchinario del pig food qua ci va o orzo o frumento e qua ci va colza girasoli e semi di soia e ovviamente i bancali ci mangiare per i maiali li fa qua va bene ragazzi con questo video è tutto ma prima di chiudere il video volevo ringraziare tutti i miei iscritti che sono arrivato a 200 ma in particolare volevo ringraziare adesso aspettate che me lo sono segnato mi sono segnato un nome se lo trovo di recente si è iscritto un giorno fa Ivana Stroppeni la saluto e la ringrazio e mi raccomando spolliciate commentate lasciate un bel like iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti